Il comune di Valle Castellana torna a denunciare tramite una nota inviata alla provincia di Teramo la drammatica situazione della SP 49, nel tratto che collega il capoluogo con le frazioni di Morice e Pietra Alta, strada che risulta essere totalmente disconnesse e quasi impraticabile, tanto per i mezzi adibiti al trasporto scolastico comunale intercomunale, quanto e soprattutto per i mezzi di soccorso. Una condizione che potrebbe avere delle ripercussioni gravissime per i circa 20 ragazzi che frequentano le scuole dell'obbligo e quelle superiori. Inoltre va ricordato che la SP 49 è l'unica via di collegamento per l'area in cui sono stati realizzati i moduli provvisori SAE, nella frazione di Pietra Alta, dove al momento risiedono ben 120 persone. Un problema serio che soprattutto si è aggravato durante questi ultimi due anni. All'inizio abbiamo fatto semplicemente un comunicato sulla stampa, oggi abbiamo scritto nero su bianco quello che è il rischio vero, imminente e tangibile per tutti coloro che percorrono quel tratto, soprattutto il tratto che collega Valle Castellana a Morice e Pietra Alta, quindi vuol dire la frazione più popolata di Valle Castellana, dove passano di scuola a bus il trasporto pubblico e numerosi cittadini che vanno ogni giorno a lavorare o che si muovono per lavoro su quella provinciale che è piena di rischi e pericoli. La provincia ha detto di avere dei soldi stanziati con diverse normative, uno il DM49, uno il Masterplan, però questa è una frase che sentiamo da oltre due anni ma non vediamo interventi tangibili, concreti e reali che possano risolvere questo problema. Secondo lei quanto è l'importo del lavoro che bisognerebbe fare su quelle strade? Allora sulla strada in questione, in particolare il manto stradale, all'incirca 500 mila euro. Chiaramente ci sono numerose frane che io stesso ho segnalato un anno e mezzo fa all'ANAS, per le quali spero siano state inserite nel prossimo pieno stralcio di intervento.